Non è così perché lui è entrato qui dentro e ha per l'ennesima volta parlato e messo in tavola il nostro rapporto di cui non doveva neanche parlare dato che ha tanti altri contenuti. Quindi non capisco questa cosa. È ovvio che a me dia fastidio che per l'ennesima volta dopo che l'abbia fatto con tutta Italia, con tutti i nostri amici, con tutta una città intera che conosciamo, con tutti i tuoi amici anche... Dopo nove mesi scusami. I miei amici anche lo hai fatto Gianmaria, non l'hai fatto solo con i tuoi perché io capisco un uomo innamorato che voglio dirlo ai tuoi migliori amici. Ma non capisco un uomo che lo vada a dire a mezzo mondo, inclusi miei ex o mie amici o persone per strada. Non va bene questo. Ho capito perfettamente Soleil. Ma Gianmaria, perché Soleil dice che sei uno stalker secondo te? No. No Soleil, ti giuro che questa è proprio follia. Perché si presentava sotto casa mia. Perché sono trattata come una principessa. Non ho mai denunciato perché non è mai... Questo vuol dire che sei stata trattata come una principessa. Ma mi sono sentita totalmente oppressa e quando piango dicendo questo o quando io parlo in questo modo e a te stesso l'ho detto e anche Daiane è stata la prima. prima a parlarti. Andrea ti ha dovuto fare un discorso. Tu sei venuto quattro volte. Io era a cena con i miei amici. Lui continuava a venire a dire dove sei, dove sei. Si è presentato sotto casa, si è presentato al ristorante, si presentava sotto casa mia. Non è normale questo. Per nessun uomo da fare. E voi donne non dovreste mai accettarlo. E io non mi vergogno di non accettare queste cose. Passa per vittima quanto vuoi. Non si fanno queste cose e non lo accetto. Piangi sono lacrime da coccodrillo, Gianmaria. Sei benissimo tutto. Non piango perché se c'è un sacco di cazzate. Ho sempre avuto solo rispetto e amore nei tuoi confronti. Quindi non osare questo. Non ti permettere. Gianmaria è l'uomo che io consiglierei ad ogni donna. Ho sbaglio. Cosa? Gianmaria è l'uomo che io consiglierei ad ogni donna. Ho sbaglio, l'hai detto a chiunque. Grazie a tutti.